Ancora un'aggressione ai danni dei dipendenti di Salerno Pulita. Nella notte un uomo in evidente stato di alterazione dopo aver posizionato i bidoni di alcuni condomini della zona di Pastena, Salerno. In mezzo alla strada ha minacciato i lavoratori che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine intervenute sul posto. Si tratta dell'ultimo caso in ordine di tempo, non si può andare avanti così, denunciano i sindacati. I lavoratori di Salerno Pulita sono spesso oggetto di aggressioni per strada, l'abbiamo visto questa settimana sotto Palazzo di Città con un'aggressione davvero brutale. Questa notte è un evento davvero drammatico che ovviamente poteva sfociare in altro. I lavoratori hanno mantenuto un forte equilibrio, hanno subito segnalato le forze dell'ordine che sono intervenute. Però bisogna lavorare con tranquillità. La società e il comune stanno mettendo in campo un nuovo piano di raccolta differenziata che sta dando dei risultati. Bisogna però permettere ai lavoratori di farlo in tranquillità e di sapere che per strada c'è il lavoro e non ci sono invece dei rischi. Quindi chiediamo e facciamo appello ovviamente alle istituzioni di convocarci subito e di capire in che modo potenziare il servizio di controllo sulle strade. I sindacati hanno richiesto un presidio costante da parte delle forze dell'ordine per consentire agli operatori di lavorare in serenità. Un appello forte. Abbiamo appena inviato una richiesta di incontro urgente al prefetto, al questore, al sindaco di Salerno e ovviamente all'amministratore unico di Salerno Pulita. Ci sono diversi atti che in queste settimane si stanno perpetrando. Ovviamente noi dobbiamo dare la garanzia a chi garantisce appunto un servizio essenziale di poter lavorare in tranquillità.